Avanti, avanti con la prossima visita. Dottore, buon giorno. Allora, mi sapete dire, mia sucele, come sta? Come sta, signor Aldo, vostra sucele è anziana, è anziana e quindi già l'età ha il suo peso. Poi, teno il diabete, teno il colesterolo, teno i triglicerici, le feghe di ingrossate, la vecchia fuma, fuma, è come fuma, è precipitato il tutto. Che sei una vecchia che deve stare allettata ad essere gagnata tre po', due ore. C'è un uomo, vostra moglie non lo può fare, hai da favunce. Quella è pesante, è quasi 100 kg, la cristiana, la dà cagnovanulina, la dà a mangiare, i papini, mentre c'è dato, mi scudo addosso perché chiaramente la dentiera non può tenere perché viene respinta. Mamma mia, mi state facendo sulla fritta. È stata sulla fritta, è stata piccata la colla, invece, vedete, vedete, sapete perché? Perché quella vive cento anni. Mamma mia, calma, non è che lei si campessi c'è danno dietro la sanga prima del tempo, Mamma, dottor, auguri. Ma che auguri? Ha gelaziato, è morto già.